L'unica opportunità che abbiamo di uscire di casa, almeno noi in zona rossa, è di andare a fare delle passeggiate principalmente nelle zone verdi e quindi ho pensato che magari vi poteva far piacere vedere alcuni angoli verdi di Milano perché non è vero che non ci sono. Dietro di me per esempio vedete il bosco verticale e poi adesso mi porto a spasso per la biblioteca degli alberi che è un parco nuovissimo, infatti gli alberi sono ancora abbastanza bassi, però diamo tempo al tempo. Intanto qui potete vedere che c'è una sorta di piccolore del parco speciale, c'è anche una pasta, è carina e ci sono anche le ninfeglie. La tappa di oggi ci porta I giardini Indro Montanelli, questa è la statua, che a dispetto del nome sono il parco pubblico più antico di Milano e furono progettati nel 1700 dall'architetto Pier Marini. Adesso vi faccio fare un giretto, questo è anche uno dei poli museali di Milano perché in fondo si trovano il museo di scienza naturale, il planetario e invece appena fuori ci sono la galleria di arte moderna e il padiglione di arte contemporanea. Grazie a tutti! Come ogni parco che si rispetti, anche qui c'è il laghetto con le anatre che diciamo è un po' una caratteristica dei parchi milanesi. E probabilmente questa specie di fiumiciattolo è anche piena di carpe. E qui quando è tutto aperto c'è il trenino per i bimbi, una volta c'erano i zoo, io mi ricordo che i miei jettori mi ci portavano da piccola, ovviamente adesso per fortuna non c'è più, è rimasto il trenino che ovviamente è aperto nei periodi non covid. Questa è la terza tappa del nostro giro per i parchi di Milano, siamo al cuore al più famoso dei parchi, cioè il parco Sempione che tra l'altro è contornato da delle grandi strutture architettoniche, quali ad esempio dietro di me trovate l'arena di Milano, non so se vedete il cartello, e poi ovviamente il castello Sforzesco e dall'altra parte l'Atriennale che è uno dei miei musei preferiti. Andiamo a fare un giro così vi mostro anche il foliage che forse se mi seguite su Instagram e se no giù trovate nell'info box il mio profilo Instagram avrete già visto in qualche storia o in qualche fotografia. Partiamo! Il mio punto preferito di tutto il parco perché da una parte come vedete si vede il castello e poi ti giri ed edilice l'arte. E questo invece è il giardino della Triennale, quindi un piccolo museo ce l'abbiamo, si può visitare almeno restando fuori dalle sbarre. Ecco il laghetto con le immancabili anatre, il castello, le anatre magari quelle riprendiamo anche un po' più da vicino. E in fondo l'arco. Angolo romantico del parco in fonte delle sirelette. E in fondo l'arco in fonte delle sireette. And الصraio? No. Non. 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 O vedere. Oppure di tutto ilrangio a sireette.